queste immagini sono arrivate stamattina da bagdad la chiesa di saint joseph situata nel centro della capitale irachena era gremita di fedeli nonostante la comunità cristiana sia sempre più nel mirino della violenza settaria che sta dilaniando il paese queste famiglie donne uomini e bambini hanno voluto comunque celebrare la messa di natale e come loro altri cristiani in un quartiere a sud della capitale irachena sempre questa mattina si sono ritrovati per pregare in una chiesa più piccola nella zona di dura ed è qui che gli attentatori hanno aspettato la fine della messa per compiere la strage l'obiettivo dell'ennesimo bagno di sangue nel giorno di natale sono le famiglie cristiane di bagdad che avevano sfidato un clima da guerra civile per un giorno di festa l'autobomba posteggiata davanti alla chiesa esplosa subito dopo la funzione all'uscita dei fedeli almeno 15 persone sono rimaste uccise una trentina i feriti il bilancio è ancora provvisorio ma le vittime sono prevalentemente cristiani una seconda bomba sempre questa mattina è esplosa in un'altra zona cristiana in un mercato uccidendo almeno sei persone ferendone una quindicina prego per la pace per la sicurezza di tutto il popolo iracheno il primo commento del parroco della st joseph church appena saputo dell'attentato avvenuto poco distante da qui nel 2003 l'anno dell'invasione americana in iraq vivevano all'incirca un milione e mezzo di cristiani poi la comunità si è sempre più ridotta non si sentono più sicuri e lasciano l'iraq oramai sono meno di mezzo milione di persone l'attacco più sanguinario contro obiettivi cristiani è stato nell'ottobre del 2010 quando 44 fedeli due sacerdoti furono uccisi in un attentato alla chiesa di nostra signora bagdad il 2013 si chiude per l'iraq con uno dei bilanci più terribili dall'inizio della guerra oltre 7 mila i civili uccisi il numero più alto di vittime degli ultimi sei anni